Ok, mando le ragazze. Raga, posso mandarvi delle foto perché questa sera è una festa e non so a che mettere? Sì, dai, manda pure! Oddio, che carina! Ma che è? Mi pare la monaca di punza. La monaca di punza? Ti pare la monaca di punza? Cioè, io? Ma? Ma che è? Mi pare la monaca di punza? Ma che sei pazza? Ecco, ora si appicciava con Gemma, brava, brava. Come sei bellina, tu? Grazie. Ma giù, mi pare la mia stessa carmelina, ma levate qualcosa, va? Dite qualcosa, di madonna quanto mi senti fatica questa, oh! Mamma mia! Quanto è brutta, va? Dove arriva? Ecco qua. Un po' da faccio vedere io, il sigarmerina è la monaca di punza. Foto. Ma non è un po' troppo esagerato? Becca là giù. Un troione da combattimento. Raga, ho capito, stasera non esco. Sì, vabbè, vabbè, vado vado, dai. Siri, ti piace come sono vestita? Farei meglio a non esprimermi, Giulia. Stronza. Grazie. Sì. Ciao. Ciao.